a pensare di dire agli italiani guardate per esempio in Riappi Cinema le persone già vaccinate possono andare al cinema facciamo dei tamponi rapidi per tutti cioè si potrebbe cominciare a farlo o no professor Crepe? vedo che sorride secondo me lei lo sa io sono vaccinato tutti e due con richiamo ho un pezzettino di carta in tasca che non è firmato da nessuno che mi sarei potuto fare io anche qui col computer che dice che io sono vaccinato allora io vorrei capire una cosa se riusciamo a arrivarci perché secondo me il quaziente intellettivo sta decrescendo a vista d'occhio allora se io sono vaccinato mi volete dare una cartina una cosa sul telefonino che così posso entrare in un cinema posso entrare in un teatro posso entrare in un aereo ci arriviamo a questo ma lei si è informato è inutile fare gli hub con 5.000 persone al giorno se poi non gli dai neanche un pezzo di carta ma scusa cosa serve? io voglio garanzie voglio entrare in un albergo e voglio sapere che le persone vicino a me siano vaccinate va bene? sì o no? sacro santo Massimo Massimo è curioso che non si abbia come dire anche un codice no? un QR sul telefonino in questo senso anche perché era stato detto che così doveva essere zero eh Massimo sì no infatti l'organizzazione della campagna vaccinale mi pare pessima nel senso che è